Nome? Drusilla. Mimma. Anno di nascita? I mitici anni 70. I mitici anni 80. Segno giuliacale? Cancro. Gemelli? Provenienza. Vieni a ballare in Puglia, in Puglia, in Puglia. Il mitico nord? Brestia. Segno di riconoscimento? La canottiera e la cintura. Bionda, fuori e... No, solo fuori. Fuori. Un'impressione sul mio arrivo in Kuwait. Ma quanto è magra questa ragazza? Non le danno da mangiare in Saudi? Povera. Non si mangia da noi in Saudi. È scioccante sentire parlare inglese in maniera fluente e relazizia. Unbelievable. Ha trovato persone che parlano più di me. Decisamente, è scioccante. E invece, e quindi questa è la cosa che ti ha più capito? No, è circondata da gente che parla un sacco. In inglese, in inglese. È quello, è quello. Riesce a fare le battute in inglese. Allora, invece, dici il tuo momento più bello? Il momento più bello? L'incontro dei bambini a scuola, ritrovare le insegnanti e vederle piangere. Fantastico. È vero, l'amano ancora. Dopo due anni si ricordano di Drusilla e c'è un bambino. Pure il portiere del mio palazzo si ricordava. Il momento più divertente? Allora, dopo la festa di Giada, il momento più divertente. Assolutamente. Il momento più divertente. La cena di ieri sera nel mio vecchio palazzo, al tredicesimo piano, non al primo piano, dove la vista è meravigliosa. È divertentissimo, ma non possiamo dirvi esattamente il come e il perché. La battuta più simpatica di questi giorni? Oh mio Dio, non lo posso... Lo so io, lo so io. Il suo figlio, piccolo Riccardo, che guarda Giada e le dice, Giada, quando ci sposiamo devi vestirti così. Degno figlio di suo padre, in jeans e maglietta. Ammito. Le mamme del deserto. Di nuovo insieme. E si abbracciano. Le mamme del deserto. Di nuovo insieme.